qui sono elencate le pagine che io posso gestire non necessariamente che io ho creato le pagine che posso gestire quindi in ogni caso voi dal momento in cui vi verrete creato quindi fa tutte queste operazioni di conferma con la mail entriamo in una pagina vetrina già creata per esempio questa che ha il suo 100 follower ecco la prima cosa che vi faccio notare questa andiamoci all'esercitazione ragazzi diciamo che l'obiettivo è che sicuramente non per mercoli prossimo abbiate creato l'account pubblicitario e fatto la proposta prima campagna di linkedin linkedin sicuramente migliora di molto la sua posizione competitiva rispetto ad altri mentre chiaramente facebook è la piattaforma assolutamente leader come strumento di social advertising quando agiamo sui consumer quindi clienti finali privati perché per il semplice fatto che facebook chiaramente ha in italia la domanda è per creare una pubblicità devo necessariamente io aver creato un profilo aziendale una pagina aziendale no non necessariamente grazie a tutti